va 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 che una meraviglia è questa viaggia questa viaggia siamo totalmente in sicurezza viaggia però viaggia qua col pilota della ferrari non il ferrari che pirota non le ferrari però la signora porcettina è tanta roba cabrio poi cabrio al top da vedere la mia espressione facciale qui c'è il pavereco da andare piano sul pavereco ma a milano si va piano è un casino lo so dopo ci sta la fototattica fuori io e te c'è stato tattico perché con ogni grande come milano come in apigli sai che la musica è giusta abbiamo messo anche la musica giusta buonasera ci guardano il porsettino tedesco targato tedesco oltretutto 1300 km sono tanti e tanti in quattro da tre giorni qui ne fa circa quasi quattro cinquecenti chilometri al giorno da fare per i nostri seguaci quanti pieni fatto tre pieni e mezzo tre pieni e mezzo capacitanza di 60 litri la bella vita beve ma al torno della corsa non può non bere infatti non può non bere stiamo andando piano chiaramente perché siamo in centro abitato sfruttiamo le strade adesso ritornerò al punto di partenza anzi no passiamo di qua che facciamo prima facciamo prima e via le illusioni c'è una bella rietta nonostante il caldo tropicale siamo in cabrio quindi si respira un po di più ma allora sai che ho scoperto che se tiro fuori il gomito potrebbe essere mutabile per 10 perché è una legge dal finestrino però penso che anche da tettuccio vaga come si può mettere le braccia fuori in teoria ma sono vabbè sono un po robe strambe come i limiti minimi massimi in italia signori stiamo andando stiamo andando porsche tedesca ragazzi tanta roba sui cappelli direttamente al vento siamo arrivati il giretto tattico in sicurezza ma siamo arrivati molto scello molto tranquillo molto molto scello e molto molto tranquillo ultima accelerata derappata un'accelerazione della madonna più di 250 cavalli 260 e non si sentono si sentono trazione posteriore motore centrale direi che siamo al top siamo al top signori piccola live news diretta ciao ciao